Ci troviamo all'interno del palazzo Clementini, uno dei numerosi palazzi orvietani che furono costruiti nella città a partire dal 1100. In particolare questo palazzo risale al 1567. È di linee prettamente rinascimentali, contraddistinto dalle finestre dal primo piano che portano tutte una conchiglia rovesciata, che si può ritrovare anche nel palazzo comunale. Il Laio Sclebio di Orvieto ha sempre privilegiato in tutti gli anni laionistici dei service di carattere culturale e appunto nell'ambito di questi service di carattere culturale è stata la valorizzazione dei palazzi orvietani. Ne abbiamo scensiti i maggiori e quelli più evidenti, 21, sono stati quindi apposte delle targhe su tutti i palazzi, delle targhe in bronzo. Successivamente è stata fatto anche una pubblicazione che riporta dei cenni storici sugli stessi palazzi. Abbiamo scelto di presentarvi questo palazzo perché ospita anche un'altra realizzazione che ha fatto il Lion Club di Orvieto con il distretto Lion e sarebbe un'aula informatica dotata di delle apparecchiature migliori oggi presenti sul mercato a esclusivo beneficio dell'istituto che è ospitato qui, il liceo classico di Orvieto.